Siamo a Biondella e oggi abbiamo inaugurato un'altra area cani, è la quarta inaugurazione di questa amministrazione perché pensiamo che poiché ci sono sempre più cani è giusto che abbiano anche i loro spazi affinché anche abbiano dei luoghi dove correre e anche per i loro proprietari luoghi di socialità perché le area cani sono soprattutto luoghi dove fare amicizie e intrattenere relazioni. Verranno aperte altre area cani, una sempre in Borgo Venezia a quartiere Bentivoglio, una a Marzana perché la zona est della nostra città non ha questo tipo di aree verdi e quindi continuiamo su questa strada.